benvenuti lupetti in questo nuovo video di spacchettamenti pokemon del set 151 ieri abbiamo spacchettato la collezione con poster, abbiamo già spacchettato anche la collezione con i raccoglitori, oggi ci spacchettiamo questo set allenatore fuori classe di snorlax perché dai ce lo meritiamo dai io un po' là che dire bellissimo il design di questo set allenatore quindi adesso ad aprire ho già fatto un piccolo taglio qua per poterlo aprire facilmente durante lo spacchettamento qua c'ho anche il gatto in camera che c'è che salta sul tavolo quindi cerco di non farlo saltare yoda si perché mi metto si chiama yoda stai giù ti prego allora andiamo un po' acchiappali tutti unisci da burbasaur charmander e squirto per assistere all'alba di un nuovo giorno nella regione di canto e l'occasione per ritrovare vecchi amici conosce i nuovi compagni e l'avventura catturai tutti i primissimi 151 pokemon scopri gli straordinari venus ex chalizat ex e brastoi ex in carte speciali dalle incantevoli illustrazioni ed esplora le campagne e la città di una terra riportata a nuova vita durante i tuoi viaggi potresti persino imbattiti nell'inafferrabile miuezza e nuove avventure da affrontare a nuovi orizzonti da svelare ti aspettano nell'espansione 151 contiene in totale allora 9 bustine una carta di un bosone di snorlax che è questa qua le buste protettive 45 carte di energia che ne abbiamo da vendere una guida 6 dadi un dado lancia moneta 2 segnali danno un copanetto della collezione con quattro divisori e una carta che come sempre regalo a uno di voi allora cominciamo a dire che allora dentro si presenta così molto carino devo dire poi ci andiamo a vedere un po' le carte che ci sono ah proprio fatto di carta è sempre plastificata un pochettino vabbè dai ci sta ci sta il vecchio stile vecchio la carta qua sono tutte le carte del 7 che a per la fine di poco mi riconoscete un po' di tutti vincendoci conto un po' come riconoscete dai ma che poi siamo gay più interessante per far vedere le fuori serie illustrazioni speciali alternativi 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 art bellissimo bellissimo e poi cominciamo con tutte le fuori serie che per il mio sono stupendi tipo i tre starter quelli sono stupendi non ci sono tante di fuori serie sull'uscita si può trovare tipo il mio gold il mio così bellissimi assistiamo un pochettino così la luce ok adesso andiamo a vedere bene in sé come tutto allora il conferenza si presenta così quindi bianco di sotto e lui così che poi ho fatto lo spazio lì sul billy dell'ikea ho già fatto bene lo spazio però abbiamo i nostri 9 pacchetti che li conto anche per sicurezza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pacchetti molto bene poi abbiamo i dadini molto belli anche questi poi abbiamo i danni per i diversi effetti quindi avvelenamento e scottatura abbiamo i nostri 4 divisore abbiamo la carta promozionale di Snorlax abbiamo le carte energia che ne abbiamo da vende abbiamo il codicino come sempre regalo a voi e poi abbiamo le buste protettive di 151 eccole qua chi come sempre non andrà ad aprire allora facciamo un piccolo sistemamento alla veloce per ritirare tutta la roba che non serve quindi booster protettive le mettiamo pure qua carte energia che poi sistemerò insieme alle altre dividendole per tipo poi abbiamo i divisori che non ce ne facciamo niente al momento i dadini e i segnalini danno bom così ce lo togliamo un attimo da qua per avere più spazio questa invece sarà la carta vuol dire che è cavolo è un po' piegata devo dire curva beccato se non fosse stata curva era bellissima ma è sempre bella però il fatto che sia vedete che curva non è dritta c'è una bustina protettiva che mi serve sempre per proteggere le carte più interessanti e che valgono di più questo snorla con questo pj che si assura la sua pancia poi abbiamo un digret qua che lo fissa bellissima tutto quanto il lago tutti quanti bellissimi molto bella come carta l'apprezzo veramente molto e adesso ci andiamo per i nostri nuovi pacchetti di 151 sperando di trovare qualcosa visto che abbiamo trovato un Arbok Ez e un Zapdos Ez questa è reverse una carta un'energia sicco reverse molto bene ponita pikachu farfetch vecchia ambra antica molto bene omanai che c'erano già anche taurus c'erano già cadabra charmander reverse venonata reverse e iniziamo con vapore olografico vabbè vapore non ci sta perché voi avete tutte le carte dei tre evoluzioni di IV quindi vapore non joltron farion sia olo e sia reverse anche di quello che io faccio il master set quindi colleziono tutte quante le reverse tutte quante le olografiche o le carte comuni poche parole collegino tutto per voi andiamo questo è un reverse perché lo sento dal tatto l'energia base di metallo creferi machop porigon vecchio domo fossile taurus cadaba di nuovo ivisaur goldach reverse alla casa ez illustrazione speciale vileprume olografico wow questa è la prima fuoriserie che troviamo secondo pacchetto già la fuoriserie bene dai bella questa mi piace un casino questo è la casa no bellissimo bella bella molto carina questa la mia preferita è del set che ho trovato molto bella ok ho dovuto fare uscire il gatto quindi ho messo in pausa il video dai secondo pacchetto abbiamo già pullato dai il famoso got pack su internet uno ho trovato tre illustrazioni speciali tutta la linea evolutiva di bulbasauri in sé quindi bulbasauri ivisaure venus fare un tante notazione speciali di un solo pacchetto dai no energia normale energia lotta pg8 mac mcmar shader bellsprout ivisaure slowbrook ce l'abbiamo già un machok koffing rapidass reverse anche il koffing è la reverse ok è un ferrari è un bench ma questo è più giolto non forse l'appello di olografica bene quella cosa più bella è quella di mettergli telecarta dentro l'accoglitorio è una cosa che io adoro fare il video è partito vero sì molto bene no faccio il codicino dove voi forse questa qua è reverse ottimo diciamo metallo possiamo sempre le stesse siccome metallo è buio forse è diventato sempre di reverse wither zubatta golden whipamber slowbrook machok dingo poi abbiamo un groister reverse un vorto reverse abbiamo un dodrio olografico dai possiamo ancora riuscire a trovare qualcosina ho disintegrato il pacchetto ragazzi l'ho proprio disintegrato qui c'è tutto per voi energia normale poi potremmo usare il tatto per vedere se ci c'è ancora qualcosa non credo poi magari c'è però energia erba orsea nidoran maschio abra diglett devgong hitmon chan seeking slowbrook reverse sand lash reverse e un altro zapdos ex beh non mi la metto almeno dopo possono anche vendere questo che lo stesso abbiamo già trovato nel primo video di 151 che ho fatto con la collezione con il raccoglitore abbiamo incontrato tre tipo quattro solo quattro pacchetti abbiamo trovato per il momento due carte si può dire la una è fuori serie l'altra invece ce l'avevo già però è sempre una ex beccato devo dire che delle carte ex degli uccelli leggendari abbiano solo fatto zapdos abbiamo dovuto fare due carte in più secondo me e mettere anche mortres e articuno visto che tanto poi zapdos c'è già la promozionale ex dedicata alla sua collezione che esce a ottobre ricordo energia base buio ghastly paras un altro secolo vedo un pochettino più di spazio però mi sistemarmi meglio vortob carabbi itmoncham seeking butterfree nidoran femmina reverse un seer reverse e abbiamo un gheridos olografico e vabbè dai ne abbiamo poi ancora di roba da aprire non mi lamento abbiamo tipo quasi più di 30 pacchetti da aprire a ottobre una cosa del genere non mi posso lamentare però cavolo è sta roba qua boh insomma ho fatto caso ci sono anche negli altri pacchetti sta cosa già delle altre espansioni ok energia seco droves bulbasaur slowpoke growlight butterfree lapalas pista ciclabile creferi reverse grom reverse e abbiamo un morta olografico ok ok possiamo ancora recuperare con gli ultimi due pacchetti dai possiamo ancora recuperare ragazzi non avete paura possiamo ancora recuperare qui vicino tutto per voi spostiamo la prima qua usiamo il tatto e forse forse c'è qualcosa non voglio assicurare 100% quindi neggia fuoco pj pori will molto bellissima questa ma tipo un pori will all'asilo bellissima questa kakuna poli ward ipno pori wag pori guardate abbiamo tutto in evolutiva pj ot porigon reverse un lucky tongue reverse e abbiamo un mister rime olografico che non dovevo prendere proprio con sicurezza e fatto di essere qualcosa ultimo pacchetto del video ed anche della collezione di snorlax vediamo se siamo fortunati almeno con questo potrebbe ma non credo energia base oddish oddish bellissimo pokemon è buono da usare all'esco pikachu meow escut body ward come se non avessimo pjot omanite nido queen questo ci dovrebbe mancare il reverse abbiamo un tentacune reverse e abbiamo un match orografico che dire ragazzi abbiamo fatto i due pull con due pacchetti abbiamo fatto anche un gotpack alla fine però dai ci si può stare una carta che però avevamo già e vabbè dovrei dire che stupenda questa mi ha preso un casino appena l'ho trovata bellissima bella bella quindi io vi aspetto domani con ben 24 pacchetti di 151 quindi ci vediamo domani ciao ragazzi